La tienese Stefania Pigato, docente e coreografa, è la nuova direttrice internazionale della danza contemporanea per le accademie di Margot Fontaine nel mondo. Ad annunciarlo il direttore artistico Ken Ludden, un riconoscimento che celebra l'eredità artistica di Margot Fontaine, la più famosa ballerina nel novecento e autrice di una metodologia di classico seguita dalle varie accademie che portano il suo nome nel mondo. Ora aspetta proprio a Stefania Pigato supervisionare e guidare l'educazione internazionale nelle numerose scuole di Margot Fontaine sparse nei cinque continenti. È arrivato guardando i risultati dei miei lavori didattici e coreografici e mi ha individuato il direttore generale che è Ken Ludden e che si trova con noi oggi, stima molto il mio lavoro e quindi vorrebbe il mio supporto per tutte le accademie nel mondo. È un onore, pertiene e fa veramente piacere sia per la persona di Stefania che è una persona sempre disponibile, attenta e aperta alla collaborazione con la città e con l'amministrazione, sia perché è promozione di cultura.